...d'accordo con tutto il tuo evento... Ah, scusa... E quindi, comunque sia, il lavoro può essere istruito e preparato dalla nostra Commissione e come sia poi alla fine con una riunione sostanzialmente congiunta anche con quella della Commissione che è venuta, che può essere poi licenziata e portata al Consiglio per la operazione. Ma prima di passare... Ma un attimo che...